Siamo in presenza con la compagnia di Giuseppe di Petra Dolce, dell'azienda Petra Dolce, siamo in Sicilia, siamo sull'Etna, è una delle denominazioni e dei disciplinari più in vola in questo periodo, non a caso perché di qualità ce l'è eccellente da vedere. Vediamo un Nerello Masferesi in purezza, come è da disciplinare dell'Etna Doc, un vino d'eleganza, diciamo, importante, ottime note minerali, ottime note speziate, ottime note verdi, in buon con un corpo a esile e con spiccata acidità e spiccata stabilità. Ma ci facciamo raccontare qualcosa in più con Giuseppe, che è molto più titolato di noi per iscrivervi. La cosa importante dopo questa bella presentazione di Corso Anlettica è che viene da vigne vecchie, i miei vecchi di 80 anni, principalmente i miei vecchi di rossa, 850 milioni d'anni. L'azienda Petra Dolce lavora principalmente nei miei vecchi ad alderenti, nella coltivazione tradizionale dell'Etna, sul che sangue? E questo è molto importante, perché significa basse resi, ma un'ottima qualità di rumba, quindi che ci stiamo a dire. Ma in questo caso è una bella concentrazione, la pulizia dopo i piccoli, è un progetto che sono sacrifici a tutta la lavorazione che può fare. E noi il risultato non ci piace molto, ci crediamo e continuiamo a investirci recuperando l'equilibrio. E noi crediamo che sia un ottimo investimento per tutti i qualità c'è. Grazie, grazie Giuseppe, ci vediamo alla prossima. Ciao Giuseppe.